Siamo riusciti a dimostrare grazie a intercettazioni ambientali i rapporti privilegiati con le COSC a Rodà Casile, aiuti ai detenuti, sostegno alle famiglie dei detenuti in Drangheta e poi siamo riusciti, in questo indagno secondo noi dimostra anche dei rapporti privilegiati con il potere politico che hanno il potere anche di orientare, di scegliere i candidati quindi il candidato ha ottenuto il benestare, è stato sostenuto è stato fatto un patto sul fatto che questo doveva poi ricambiare il sostegno elettorale e il patto è stato mantenuto perché questa indagine riesce a dimostrare anche quali sono stati poi i favori che ha dovuto fare la politica a queste persone in cambio del sostegno elettorale. Vasta operazione della polizia nel comune di Lavagna condotta dalla squadra mobile di Genova e dal servizio centrale operativo grazie alle intercettazioni ambientali effettuate in vari punti della cittadina Ligure, le forze dell'ordine hanno indagato 20 persone per associazione a delinquere di stampo mafioso tutte ritenute appartenenti all'andrangheta calabrese gli indagati, da anni residenti in Liguria erano attivi nel traffico illecito di rifiuti di stupefacenti usura, oltre a riciclaggio di denaro e intestazione fittizia di beni e di società gli arresti sono già 5 tra cui il sindaco di Lavagna Giuseppe Sanguinetti e l'ex parlamentare Gabriella Mondello la gestione dei rifiuti nel comune di Lavagna il poter svolgere ancora alcune attività sul lungomare che sono attività che tutti hanno segnalato come illecite il poter mantenere anche un'altra attività commerciale che il Consiglio di Stato aveva dichiarato illegitimo e la discarica non finiva di tutto ma sicuramente non vi era alcun controllo non vi era alcuna preoccupazione di cosa finisse vi era piena consapevolezza che oltre ai rifiuti urbani finivano rifiuti illeciti, speciali o nocivi e questo senza alcun problema l'unico problema da parte del responsabile delle scariche era quello di dire aspetta, magari vedete che ci sia presente io così quando venite a sversare queste cose ci penso io a fare in modo che sia tutto e nessuno se ne accorga stati tratti in arresto per ipotesi di abuso d'ufficio chi 1, chi 2, chi più contestazione di abuso d'ufficio sono poi indagati a piede libero per voto di scambio